buongiorno amiche buongiorno amici bianconeri bentrovati qui sul mio canale lunedì 10 giugno inizia una settimana una nuova settimana inizia la settimana che porterà anche all'inizio dei campionati europei vedremo se l'italia dopo la vittoria che può far morale ma con tante cose ancora da rivedere sistemare potrà recitare un ruolo non dico da protagonista ma comunque abbastanza importante vediamo l'in bocca al lupo agli azzurri io glielo mando voi fate come ritenete più opportuno sapendo quelle che sono stati tanti commenti in passato su quello che riguarda la nostra nazionale dunque sviluppiamo questo contenuto sulla questa settimana perché è una settimana si iniziano gli europei ma una settimana di annunci e di decisioni in casa juventus quindi settimana molto intensa settimana molto importante che la vivremo costantemente quotidianamente insieme prima di sviluppare il tutto mi raccomando come sempre io vi invito se già non lo siete ad iscrivervi al canale youtube a zionare la campanella notifica mettere un bel pollicione verso l'alto in fondo la puntata sperando possa essere stata di vostra compagnia dunque settimana di decisioni e di annunci perché questa è la settimana definitiva quella che porterà a far crollare tutti i dubbi e le incertezze in alcuni ancora in coloro che pensano che tiago motta sia stata una copertura o che tiago motta ci siano delle motivazioni che noi non conosciamo per il motivo che non lo ha ancora portato a firmare e da parte dell'eventus ad annunciarlo sarà la settimana appunto dell'annuncio la settimana della firma del sul contratto per tiago motta e a seguito della firma di tiago motta e quindi della ufficialità del nuovo allenatore tiago motta la juventus sarà un effetto domino sarà la settimana poi decisiva e di ulteriori annunci perché ad oggi qualsiasi tipo di operazione vedi ad esempio michele di gredegorio non è stata ancora ufficializzata non è ancora stata annunciata da parte della juve perché io credo che il modus operandi sia quello in primis di annunciare l'allenatore e poi a cascata tutte le altre operazioni che la juve tenderà a definire ecco verranno rese ovviamente effettive e ufficiali quindi aspettiamoci aspettiamoci prima l'annuncio di tiago motta e poi successivamente quello che sarà di michele di gregorio nuovo portiere della juventus farà il titolare e aspettiamoci anche le situazioni calde intricate complesse chi più chi meno di ad esempio adrian rabiot che entro questa settimana deve dare una risposta alla juventus prima dell'inizio degli europei e di federico chiesa perché chiaramente la situazione soprattutto legata all'esterno ex fiorentina è una situazione che è un po ingarbugliata e soprattutto ecco destra le maggiori preoccupazioni andiamo per gradi michele di gregorio lo abbiamo detto sarà il nuovo portiere della juventus in queste ore sembrano essersi intensificati i contatti tra l'al nasr quindi sirene arabe per voi c'è scezni il quale voleva portare a termine il proprio contratto e quindi fino al 30 giugno 2025 e rimanere a torino lui si trova bene la famiglia si trova bene ambientata e non voleva prendere in considerazione un trasferimento prima della scadenza del contratto la scelta della juve o meglio sì la scelta della juve ma anche il modus operandi della juve beh credo che sia anche da leggere in in un'altra ottica quella di spingere il portiere polacco che gode sicuramente di considerazione ma che ha un un ingaggio fuori da quelli che sono i nuovi parametri che sono stati dati a cristiano giuntoli lui tra l'altro ricorderete la scorsa stagione ha rifiutato di spalmare su più anni un paio d'anni quindi invece dell'ultimo anno di contratto allungarlo di un'ulteriore stagione quel contratto oneroso da 6 quasi 7 milioni di euro netti a stagione e quindi si è messo nella condizione di far sì che la juventus poi si muovesse di conseguenza è vero che il contratto che ha sottoscritto un contratto sottoscritto di comune accordo tra le parti quindi nessuno ha obbligato nessuno a firmare quell'accordo i contratti teoricamente andrebbero rispettati ma il calcio di oggi sapete come funziona e quindi voce scesni è messo fondamentalmente nella condizione di prendere in esame un possibile trasferimento la speranza per la juve è che l'al nasr faccia davvero sul serio riesca a convincere il portiere polacco per un'esperienza nella saudi league e quindi per la juve sarebbe grande ossigeno il potersi liberare del contratto tra l'altro juve che mi risulta abbia addirittura preso in esame anche la possibilità di liberarlo a costo zero la lista gratuita pur di liberarsi dell'ingaggio piuttosto oneroso vediamo quello che sarà perché gestire tre portieri di quella caratura penso che sarebbe un grosso problema è piuttosto difficile soprattutto poi alla luce il fatto che la juve ha avviato i contatti con l'entourage di mattia per il per un rinnovo di contratto veniamo invece alla questione relativa ad adrian rabiot è la settimana decisiva la settimana o accetta o rifiuta la proposta della juve rabiot che come vi disse a suo tempo 2 più 1 possibilità del utilizzo del decreto crescita l'offerta di contratto c'è chi parla di sette e mezzo c'è chi parla di sette c'è chi parla di otto io sono molto onesto riporto quello che mi è stato detto le cifre che girano non sarebbero quelle corrette quindi questo è e questo vi dico non le conosco e quindi inutile vi dica a sette e mezzo più bonus o a 8 o quant'altro quello che vi dico è un 2 più 1 con possibilità dell'utilizzo appunto del decreto crescita adrian rabiot deve semplicemente decidere se proseguire nella comfort zone cioè alla juve dove sa perfettamente l'ambiente nel quale fondamentalmente è cresciuto con l'avvallo tra l'altro di tiago motta che lo vorrebbe nella sua juventus oppure decidere di accettare ulteriori altre altre proposte magari più cospicue ma ad oggi sono molto sincero chi ha bussato pesantemente alla porta di adrian rabiot o non è dato sapere o non c'è perché non ci sono club che hanno fatto sul serio per una proposta d'ingaggio alle cifre magari che lui ambirebbe e quindi ad oggi mi risulta che ci siano buone probabilità per un prosieguo del rapporto l'unico freno è rappresentato come già vi ho detto dalla madre agente che vorrebbe magari monetizzare maggiormente il prolungamento del contratto e infine fedrico chiesa fedrico chiesa vi ho detto non ci sono perché mi è stato così riferito non ci sono in programma in questa settimana incontri con l'agente falli ramadani che in italia invece per incontrare la roma per incontrare il napoli però leggo questa mattina che qualcosa potrebbe essere cambiato io non ho contatti diretti non ho informazioni confermative dirette che confermino un incontro tra falli ramadani e cristiano giuntoli lo riporta nico schira se lo riporta nico schira di cui io ovviamente nutro grande stima e mi fido evidentemente avrà le sue fonti e quindi molto probabilmente sarà come dice lui quindi incontro tra la juventus cristiano giuntoli e falli ramadani per capire questa ingarbugliata vicenda relativa a cristiano federico chiesa come potrà finire allora chiesa è sul mercato io ve l'ho raccontato perché così mi è stato detto gli ho dato anche un'interpretazione perché io non mi scosto da quella che era la mia idea ovvero io vado in controtendenza che torno a sottolineare era un mio pensiero pensavo fosse chiaro credo anche di averlo detto vado in controtendenza rispetto alle voci che dicono che tiago motta non vuole chi è federico chiesa io credo che sia solo ed essenzialmente una questione economica non sia una questione tecnica da parte di tiago motta non credo molto al concetto della impossibilità da parte di chiesa di avere una fase difensiva che soddisfi motta io credo che sui giocatori ci si possa lavorare ha vinto un europeo da esterno d'attacco con roberto mancini evidentemente deve aver fatto a entrambe le fasi per poter essere un giocatore che possa essere determinante sia in diciamo in un verso che nell'altro ma al di là di questo la mia controtendenza era appunto che la juve difficilmente avendo messo sul mercato mattia sulle sceglierà di liberarsi di entrambi però c'è l'informazione che mi è arrivata che invece lui è sul mercato che sulle andrà via e quindi molto probabilmente la juve monetizzerà da entrambi gli ho voluto dare questa chiave di lettura è sul mercato è vero ma forse per mettere pressione al giocatore a farli ramadani per far capire che alla juventus oggi non è più tempo di vacche grasse e quindi l'ingaggio che a cui lui ambirebbe alla juve non è assolutamente fattibile la juve vuole proseguire con lui vuole l'estensione per evitare ovviamente che vada in scadenza 0 il prossimo anno diversamente è sul mercato e quindi ascolterà proposte ma il fatto che la juve ascolti proposte dai 30 35 milioni in su 40 milioni circa credo che sia un po come dire fondamentalmente non è in vendita perché 40 milioni in italia per un giocatore che va in scadenza fra poco più di sei mesi anzi fra sei mesi va diciamo entra nell'anno della scadenza di contratto e quindi acquistabile eventualmente parametro zero mi sembra una cifra che nessuno nella maniera più assoluta in italia possa pensare di spendere e allora eventualmente potremmo stare attenti ad eventuali sirene estere dalla premier league oppure dalla bundesliga dove il bayern è sempre stato un stimatore del giocatore dove in premier sia il liverpool che potrebbe perdere sala ma attenzione anche al manchester united che potrebbe eventualmente parlare di un discorso legato a greenwood potrebbero essere club interessati è chiaro che napoli roma ed eventualmente manchester united non garantirebbero al giocatore che invece ambisce a giocare la premier league la champions league la partecipazione alla massima competizione europea per club quindi situazione ancora tutta da definire chiesa ok sul mercato forse è una mossa per indurlo a riflettere bene prolungare con la juve e poi ragionare in maniera più serena nei tempi che verranno ditemi la vostra ci sentiamo presto fino alla fine ciao